Non solo i sindaci dei comuni interessati ma anche il mondo politico istituzionale di Capitanata alza la voce sulla questione di Ducasburi o meglio sui fondi relativi all'estrazione di metano sui Monti Dauni, circa 23 milioni che la Regione Puglia ha tolto ai sette comuni interessati per destinarli ad altri, il consigliere provinciale Pasquale Cataneo. E' l'ennesima dimostrazione che le parole verso il territorio di Capitanata poi non coincidono con i fatti. Voglio rammentare a lei ma anche ai telespettatori che già nel patto per la Puglia c'era una discriminazione operata nei confronti della Capitanata e dopo solleciti riverberi negativi che dalla Capitanata sono passati verso la giunta regionale pugliese ci fu una rimodulazione. Su questa ultima io sono a fianco da consigliere provinciale ai sindaci dei comuni del Subappenino come a tutti gli altri comuni perché ad esempio quei soldi invece devono essere destinati, ricordiamo che già per le paleoliche le royalties hanno avuto delle difficoltà di essere poi riverberate ai comuni sui quali insedono quegli impianti produttivi. La stessa cosa purtroppo è avvenuta adesso con una diversa finalità da parte della regione e credo che per esempio se si destinano sulle strade e beh questo cambierebbe il ragionamento perché ci sono degli investimenti per rifare alcune strade, questi altri soldi potrebbero servire ad evitare la causa che ha prodotto praticamente lo smottamento sulle strade provinciali garantendo una maggiore raggiungibilità. Ultima cosa quella della destinazione di alcuni fondi agli altri comuni per i migranti quando noi abbiamo una disoccupazione altissima per i nostri giovani e aggiungo destinare dei fondi all'aeroporto di Grottaglia e questo diventa una contraddizione perché abbiamo già visto che negli ultimi 15 anni la maggior parte delle risorse su 557 milioni di euro, il 50% di quella somma è andata a Bari, il 26% all'aeroporto di Brindisi, il 25% all'aeroporto di Taranto e solo il residuo 5% circa, cioè una trentina di milioni affoggia, dei quali 14 fermi da 7 anni per l'allungamento della pista. Allora se a Bari qualcuno dice e fa delle cose così macroscopicamente contraddittorie, io credo che il territorio tutto e quindi anche la ringrazio per questo perché Teleradio R è uno dei media che dà attenzione alle problematiche del territorio, bisogna far cambiare a qualcuno a Bari l'idea che ha della Capitanata.